Buonasera e benvenuti a Sabato Dino e Danza, Alex Angeletti questa sera ci raccontiamo Oddio, ragazzi cosa ho visto? La sfera, la sfera finalmente è un po' diversa dal solito è piena sta sfera, ma di disegni però, è zuppa di cosa? Zuppa è proprio pregna, la serata è intensa, intensa Come ti chiami? Me la puoi rifare perché se non puoi Matteo Guarda la telecamera però, facciamo finta che non abbia sbagliato, ok Ciao, come ti chiami? Matteo, ciao Da dove arrivi Matteo? Non lo so, mi hanno portato qua loro Ma tu da dove provieni? Quanto tempo ho? Non lo so, chiama a casa dai Col Nago, col Nago Col Nago, perfetto, provincia di? Col Nago Perfetto, non ho provincia Non ho la bicicletta Ah, con la bicicletta, perfetto Lì è Cavenago Lì è Cavenago, attenzione, siamo stati ripresi Ci stanno riprendendo in bicicletta, attenzione perché in fondo abbiamo anche Fendez senza tatuaggi Attenzione A me ritorniamo a Matteo Mi dica, mi dica Allora, cosa festeggi? Festeggio il suo non compleanno Allora, il suo non compleanno e tu cosa festeggi? Il mio non compleanno Perfetto Allora, più facile, più facile Più facile, più facile Mamma mia, mamma mia che bel risolto che è arrivato Che portata ragazzi Allora Matteo, saluta tutti gli amici del tuo paese Dai Ciao a tutti Ciao Ciao Allegria Ragazzi abbiamo trovato uno di tante parole Tagliamola Tagliamola No, no, ma cuciamola Salutiamo la bicicletta Ciao 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 Ciao